Buongiorno e ben ritrovati con il Tg di Canale 81 Lazio. Vediamo le ultime notizie che arrivano in redazione partendo dalla cronaca e da una coppia di italiani che a Capena era già sottoposta agli arresti domiciliari ed è stata trovata in possesso di 30 kg di hashish durante un controllo dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Monterotondo. Per la coppia sono così scattate di nuovo le manette con la traduzione questa volta nel carcere romano dire Bibbia e al momento del controllo di routine i carabinieri hanno chiesto come da loro facoltà alla stessa coppia appunto formata da un italiano di 32 anni e da una donna di 47 di poter ispezionare l'appartamento per accertare che non ci fossero altre persone eccetto loro. Con stati i segni visti i segni di insofferenza dei due una volta giunti sul posto gli altri militari gli stessi hanno proceduto a una perquisizione trovando appunto uno scatolone con dentro lo stupefacente. Ci spostiamo a Roma dove c'è stata una maxi operazione straordinaria di controllo del territorio nella zona della stazione Termini. L'operazione è stata pianificata dalla questura di Roma visto impegnate polizia, carabinieri e guardia di finanza. Come risaputo l'area dello scala romano è da mesi sotto l'attenzione delle forze dell'ordine e in questa occasione sono state controllate ben 2.290 persone e 113 veicoli. Una persona è stata denunciata e sono state elevate 35 sanzioni per violazione al codice della strada. Infine sono stati sottoposti a controllo anche sei esercizi commerciali. I controlli sono stati disposti al fine di verificare e controllare eventuali irregolari sul territorio nazionale e tra i tanti reprimere fenomeni legati allo spaccio di droga e a reati predatori. Sempre restando a Roma, la Giunta Capitolina ha approvato tre delibere che riguardano gli equilibri e la variazione di bilancio, il nuovo regolamento generale sull'entrata e l'adeguamento del contributo di soggiorno. Ci saranno importanti novità dal punto di vista della programmazione finanziaria e delle nuove linee guida che consentiranno di migliorare e di pianificare i servizi. Il documento approvato segna un rilancio organizzativo del Dipartimento Risorse Economiche e di Acquia a Roma. Dalla lotta all'evasione è stato anche previsto un maggiore stanziamento di risorse pari a 786 milioni di euro nel triennio 2023-2025, con 453 milioni di spesa corrente e 233 di investimenti. Ieri ad Ossia sono stati presentati sul pontile di Piazza della Vennati i bus e mobi siti per il litorale. Si tratta di mezzi, i primi per questa zona, due porte con 14 posti a sedere e dai 23 ai 27 posti in piedi a seconda degli allestimenti interni. Gli stessi bus sono tutti dotati di pedana per la salita di risabile e di posto per la carrozzella, mentre il posto di guida è chiuso e protetto per garantire la sicurezza dell'autista. Inoltre è anche presente un circuito di veduto sorveglianza interno al mezzo per la tutela dei passeggeri a bordo. Tra le dovretà presenti è anche il sindaco di Roma Roberto Qualtieri e l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè. Cinque comuni della provincia di Latina saranno senza acqua nel pomeriggio di domani, giovedì 20 luglio, fino alle 2 di notte del giorno successivo. Una comunicazione che è arrivata ieri pomeriggio da parte di Acqua Latina. La motivazione di questa interruzione idrica sta proprio nell'innalzamento delle temperature e nell'incremento dell'uso dell'acqua che ha reso necessario gli interventi che sono in programma per il 20 luglio nell'ambito di un piano delle attività di risanamento e ammodernamento delle reti idriche su tutto lato 4. Le cinque città interessate saranno Latina, Pontigna, Sabaudia, San Felice e Circeo e Terra Cina. Buon risultato anche quest'anno per le piccole università statali, quelle che hanno fino a 10.000 iscritti. Infatti al secondo posto si conferma l'Università della Tuscia con 86 punti, mentre al quarto quella di Cassino che rispetto all'anno scorso scende leggermente nel punteggio da 85 a 84,3. Quest'ultima università spicca nei parametri sull'internazionalizzazione, occupabilità e borse di studio. Prima anche quest'anno l'Università di Camerino, mentre il terzo gradino del podio è occupato da un altro Ateneo delle Marche, quello di Macerata. Con questa notizia chiudiamo il TG di Canale 81 Lazio, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamente ai prossimi notiziari.